Vai, siamo pronti. Allora, dimmi tu, che succede? Il papà colore. Il papà colore. Poi. Bravissima, Clari, ottimo. Vediamo. Vai. La pimpa mangia la pasta. Bravissima. E qui? La pimpa mangia un malanno. Ok, metti lì, Clari. Posa, posa lì là. Bravissima. Buono. No, non sono uguali. Bravissima. E quali? La mamma è uguale, però questi sono diversi, ok? La mamma è uguale. Bravissima, sì. Non sono uguali, no. Questi sono diversi, ok? Non sono uguali, bravissima. Vai, dimmi, che succede? La mamma... Ipa. E cosa fa la mamma? No. La mamma mangia? No. E cosa fa? La mamma... Ipa. Non ho capito. Cosa fa la mamma, Clari? Ferma con le manine. Cosa fa? Lontano. Lontano. Lontano? No. No. Cosa fa la mamma? Beve? No. Mangia? No. Lava? No. Legge? No. Come no? Legge. Sì, legge, Clari. Guarda. Come si dice? La mamma legge. Ipa. Ok. E qui invece? La mamma... Ipa. Legge. Legge. La mamma legge il giornale. La mamma legge il giornale. Giornale, bravissima. Vediamo qui. Che succede? Il papà taglia. Togli torta. Bravissima. E qui? Il papà taglia. Te lo ricordi cos'è? Pe... Va beh. No. Cos'è? Te lo ricordi, Clari? No. E chiedilo a me allora. Cosa mi devi dire? Mai. Cos'è? Il formaggio. Il formaggio. Sì, sì. Papà taglia il formaggio. Il papà... Italia. Tomato. Bravissima, posa. Metti di là. Metti di là. Qua. Va bene, mettilo lì. Ok. Guardiamo questi. La. Pimpa. Ma. Brapa. Banana. Giusto. E qui invece? La lava. Sì, lava. Giusto. La bimba lava la banana, giusto? La banana. Bravissima. Sì. E qui? La bimba lava. E chiedimelo. Mai. Che cos'è? La moto. La bimba lava la moto. La bimba lava tutto. La moto. C'è tutto. La moto. La toto. Clari, moto. Moto. Ok, molto bene. L'ultimo, Clari. Sono due moto, sì. Non sono due moto, sì. Non sono uguali. Sono? Le piccole. Questa è più piccola e quella è più? E sceglie. Bravissima. Giusto. Vai. La maestra. Colora. Poglio. Bravissima. La maestra. Colora. Libro. Bravissima. Batti cinque, Clari. Bravissima. Ascoltami. È finito. Aspetta. È finito. È finito. Hai ragione, sì. È finito. Ascoltami. Clari. Clari. Mi ascolti? No. Eh no, ascoltami. Di che colore è? Cello. È questa? Di che colore è? L'orla. Molto bene, bravissima. È il libro di che colore è? Perfetto. Bravissima, brava. Clari. È l'orla quale? È brava, le scarpe sono nere. Clari, come stai? Belle. Bravissima. Ascolta. Quanti anni hai? Quattro. Bravissima. Come ti chiami? Clareta. Ma sei bravissima. Batti cinque. Saluta. Ciao. Ciao.